Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, come ogni mercoledì torna il questo o quello, terzo appuntamento nel periodo Toz. Ho già visto che avete lasciato un sacco di domande su quelli che sono i Tozzi Serie A, mi raccomando lasciate già ora le domande per l'episodio settimana prossima. Vi ricordo che se lascio il cuoricino troverete la risposta nel prossimo video, ma comunque cercate di arrivare fino in fondo perché anche se non ho risposto alla vostra domanda, magari ho risposto a una domanda analoga. Mettetevi comodi e partiamo subito, passando dunque sulla schermata dove abbiamo Max che chiede Rikard Moments, Davis, Bellingham o Jones al centrocampo con Vidal, tutta la Vidal, Fonsino Davis che può fare qualsiasi ruolo ed è totale, molto meglio sia di Rikard, di Bellingham che ho provato e non mi ha convinto, e di Jones che ormai è bello quantico. Antonio Paradiso, Fofanau Zagadu, ti dico Zagadu soprattutto in relazione a quello che è stato l'upgrade che ha preso alle 19, quindi Zagadu tutta la vita. Gabriel chiede Ciao Ribe, ci sta Roussillon, TD, Jordi Alba, TS, Tapsoba e Mbappu da DC, chi cambieresti un saluto? Guarda Gabriel, la tua è veramente una gran difesa, anche con Roussillon a set non è un problema, l'unico che andrei a cambiare probabilmente è Jordi Alba che non mi convince, andrei a inserire Mendy Foodbird da terzino, in quella che è una difesa veramente molto 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 solida. Karim Meminage, Mbappu Flashback con Mugiele Tots da DC, io tutta la vita ti consiglio Mbappu, come ho detto anche all'interno del video della Bundesliga sui difensori, Edo Tarta chiede se Zagadu è buono e lo possiamo finalmente dire che dopo l'upgrade diventa veramente molto 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 valido. Llorenteo Sabitzer chiede Giulio, eventualmente possono giocare da CC8 d'intesa, onestamente Giulio se ti serve un CC preferisco Sabitzer perché palla al piede è meno macchinoso, in fase di uscita ti permette di appunto andare meglio in avanti, sebbene Llorente magari sia un pelo meglio in difesa ti permette di perdere un sacco di palle e quindi vanificare con lo sforzo difensivo che ha fatto, quindi ti consiglio Sabitzer. Lorenzo di Gianberardino, quale full tots è meglio, la Liga o la Bundesliga? Guarda, a 360 gradi io ti dico la Bundesliga perché ha una difesa migliore, un centrocampo migliore, se poi adatti qualche esterno in avanti assieme a Legandowski che è un bellissimo giocatore, full tots Bundesliga 100x. Alessandro Marini, come puoi migliorare il tuo centrocampo composto da Jones e Petit Prime? Ti serve un'icona o un francese per l'intesa vorresti prima togliere Petit? Allora, se ti serve in questo caso un'icona, io ti consiglio tutta la vita di andare a prendere un Vierat al posto di Petit, una volta che hai preso Vierat, lì ci puoi affiancare qualsiasi tipo di giocatore, se hai bisogno di un giocatore di Premier io ti consiglio un Bruno, tots o anche un De Bruin, tots, se puoi cambiare ti consiglio un Bel De Jong. E Karim commenta che si diverte quando leggi il tuo cognome, ma non è vero, ormai l'ho imparato, l'avevo letto già questo commento, infatti ero pronto. Davide Galizia, con DMD base o Dias e Dalò? Onestamente ti dico meglio con DMD, perché con DMD è meglio di Dias e MD è meglio di Dalò. Mentre Mattia chiede, attaccante top da mettere insieme il R9 Prime in un 4-4-2 budget fino a 5 milioni, io onestamente o gli affiancherei un Bappettotti aspettando o tamponerei, ovviamente periodo di Covid non è proprio la parola più felice, però andrei a mettere poi Cristiano Totti per giocare, Cristiano Totti e R9 Prime stai a posto per sempre. Marco Roman, Lewandowski Tozzo, Cristiano 90T in attacco entrambi non scambiabili, Cristiano, perché 5 skill è proprio un altro tipo di giocatore. Andrea Iardi, ciao Ribe, in base a quali stats posso decidere se mettere un CD o un TS DC? Intendo quali sono le stats che deve avere un giocatore per giocare DC, ad esempio Kimmich può giocare DC sì o no? Allora Andrea, per quanto riguarda la valutazione di un ruolo che non sia DC, che appunto tu vai ad adattare in quella parte di campo, devi considerare due cose, innanzitutto il body type, hai bisogno di un giocatore che sia comunque discretamente fisico, quindi alto, con gambe lunghe che gli permetta sia di recuperare il pallone sia di avere degli autoblock campi, questo come prima cosa. Seconda cosa, la seconda statistica che influisce tanto è la velocità, perché in un gioco dove vanno tanto i filtranti abbiamo visto che spostare un terzino DC più che altro è proprio per quella sua velocità superiore rispetto alle carte di ruolo. Quindi per risponderti alla domanda e allo specifico di Kimmich la risposta è no, sì, solamente se lo utilizzi in un 5-3-2, quindi affiancato da altri due difensori molto più fisici e di ruolo. Kimmich non ti regge la difesa insieme a un altro giocatore, seppur adattato. Francesco Ciampi, ciao Ribe, esterno destro meglio cantare o Sancho? Allora, io tra quei due ti dico Kent perché è 5-5, però se potessi poi andarti a prendere Sancho, il Tots è lì, la musica cambierebbe, perché Sancho l'ho trovato molto più incisivo davanti la porta. Ivan Rossi, ciao Ribe, un sostituto per Neymar base come esterno su 5-600k? Guarda Ivan, onestamente io ti dico di aspettare i Tots di Ligan che devono uscire venerdì, altrimenti per me il rapporto qualità-prezzo non c'è niente meglio di Neymar, ti può fare qualsiasi ruolo, io lo gioco anche io da esterno e mi piace davvero tanto. Antonio Valsania, una punta un po' esotica con un milione e mezzo per cambiare un po'. Allora, Icon, tu hai chiesto, quale punta esotica se non mio figlio Kenny Dalvich Moments con un milione e mezzo? Altrimenti potresti andare anche magari su un E-Token un po' anticonvenzionale ma a me piace, così come anche Rallul Moments è un 4-4 che non mi dispiace. Federico Scandolara, Ribe, secondo te nel 4-3-1-2 come cdc è meglio un Dobele Tots oppure Renato Footbird che però mi manda 7-8 di intesa 5 giocatori anziché 3? Guarda Federico, a malincuore Renato non ti può mandare 7-8 di intesa 5 giocatori perché è veramente troppo, 3 è il massimo. Quindi io ti dico un Dobele, magari aspetta i Tots di Ligan che vedi se riesci a mettere un rattoppo e evitare di avere così tanti giocatori con poca intesa perché alla lunga rischia di diventare un problema. La via di Carlito, qual è la punta migliore da affiancare in un 4-3-1-2? Insieme a Cristiano, Mbappé, Suarez o Romarigno, tutta la vita Mbappé perché ha 5 di skill rispetto a quelli che hai indicato tu, quindi io ti direi lui tranquillamente oppure un Neymar. Allora, per quanto riguarda la catena di sinistra, io ti dico tutta la vita Teo e del Sharawi perché Teo è meglio di Gior di Alba e del Sharawi è meglio sia di Macis che di Chiesa perché ha 5 di skill e 4 di piede debole. Mentre per quanto riguarda la catena di destra, Cancelo è più forte di Sambia ma di Atta è molto più forte di Rava Toz che a 3 di piede debole rischia di diventare un problema oltre che va molto via in velocità quel di Atta, cosa che Rafa visto il suo body type non fa in maniera ottimale quindi ti dico Andrei di Sambia e di Atta. Sambia lo può comunque togliere con i Toz e la Ligan, magari esce qualche terzino più forte. Mattia Feniello, in attacco Ronaldo, Basel e Lewandowski, Toz nel 4-4-2 tutti e due non scambiabili, stai messo benissimo, Mattia. Gamer Play, in difesa, Teodliners, James Futur Stars, Bambi Saga, Cancelo, come la imposterersi? Allora io andrei a piazzare Gamer, Bambi Saga e Teodadc con Cancelo e James Terzini. Simone Longo, Alaba Champions League affiancato con Kim Ben-Pé o Kerrer affiancato con Kim Ben-Pé, onestamente ti dico Alaba. Benito Crispo, migliore attaccante su 2 milioni e mezzo, 3 se intendi giocatori, tra virgolette, non Icon, ti dico, il vario cristiano nelle sue versioni tutta la vita Neymar, tutta la vita Mbappé, quelli con 5 di skill, 5 di vede debole, bene o male. Se invece hai bisogno di Icon potresti cercare di optare un Esebio che pure, però, non è fortissimamente in meta quest'anno. Io preferisco sempre Mbappé, Neymar e Ronaldo. Giuseppe Vaccaro, Goretzka, Tots, non scambiabile o Bruno? Eh, beh, ti sei risposto da solo, perché se Bruno non ti sta piacendo, Giuseppe, hai trovato un giocatore come Goretzka che vale tutti quei crediti, sparaci tranquillamente il buon Leon. Alessandro D, ciao Ribe, la Crua e Baku, o con dei baskets, dati D. Allora, ti direi, Alessandro, tra queste due coppie, di optare per la Crua e Baku, perché la Crua è più forte di Condé e Baku alla fine da terzino se la gioca. Fedele di Luca, chi caccio tra James, Fofana, Zaga 2 e Varane? No problemi di Link, credo che tu debba togliere uno di questi, e se onestamente io andrei a togliere Fofana e probabilmente ti dico, guarda, a malincuore James utilizzerai Zaga 2 e Varane. Boa FC, un DCI con 400k e Maldini base, io opterei sempre per un Ferdinand Baby. Alessio, una domanda, non è un questo o quello, però una squadra che vale 5 milioni è buono per questo momento di FIFA. Sì, non è malvagio, ovviamente, non è proprio il top, però te la riesci a giocare con tutti, visto che pensi magari c'è un Ronaldo base a 100k, un Neymar che costa poco, un Bappé che pure non costa tantissimo. DT, Sabitzer, Tolo, Muller da usare CC, tutta la vita Sabitzer, minchia, ma oggi mi sto mangiando le parole, sto dicendo TOT invece di TOTS, CDC ho detto DC, vabbè, me ne sto rendendo conto, sto un po' cotto. John, come esterno, meglio Atala a 7, oppure Best Prime degli Swap, e chi come portiere meglio tra Neuer, Toti, Wanderstar, Yashin e Cech? Allora, da esterno io preferisco Best, Atala lo preferisco da punto da C o C. Mentre per quanto riguarda il miglior portiere tra quelli, ti dico Wanderstar Moments, che è anche il portiere più utilizzato in competitivo, salvo poi comunque considerare che il portiere è il ruolo più soggettivo di FIFA. Ale Tocca è una squadra con David, Stapso Barus, John, Jesus, Navas, Llorente, Correa, ai 400k, mi consigli 4 giocatori della Bundesliga per chiudere la squadra, minchia, 400k per 4 giocatori è un po' pochino, onestamente, penserei magari di poter prendere un Baili da adattare a destra, un Comand da mettere a sinistra, e poi accumulerei un attimo, perché insomma, arrivati a questo punto del gioco, 4 giocatori, 400k, praticamente una media da 100k, è un po' pochino, secondo me. ATT con un milione, S, Z da boffo, io andrei sempre su Cristiano Ronaldo, migliori 4IC e la Bundes, manco a farla posta, ho uscito il video, Dodi, che immagino tu avrai visto, Leonardo Lista, ciao Ribe, meglio Zambrotta, un Babu flashback da DC, per me Babu, come ho detto anche nel video, Riccardo, chi scegliere in una difesa a 2, tra Campbell, James e Ruben Dias, tra quelli io andrei a scegliere, ehm, James e Ruben Dias, Campbell non mi fa impazzire, mentre Giuseppe chiede, Valverde o De Jong a 8? Valverde a 8, scusami De Jong a 8, Amicio Felicio, come difensore centrale, accanto a Trippier Toz, meglio Zagadu o Tapsoba? Guarda, in relazione all'upgrade, ti potrei dire Zagadu, Jungle Joseph, Bella Ribe, la difesa ci sta, la Croata, Psobella, Tako Coutinho, Butra, esterni e Banz e Correa, allora, la difesa mi piace tanto, anche l'esterno, però quel Butra lì davanti, con Coutinho fa fatica, io Butra, lo sapete quanto l'ho amato l'anno scorso, quest'anno secondo me, è pressoché inutilizzabile, quindi lui, è quello che onestamente, sostituirei, ciao, Zaid, Ai, Areolamba, Boumuchiele, Russion, Jordi Alba, Marez, Zitan, Coutinho, Adal, Marez, Coutinho, Coc, Adalene, Marpunte, allora, mi piace tanto questa squadra, la cosa che potresti fare, è di abbassare Atal a Coc, e mettere Mbappé da punta, ammesso e non concesso, che tu lo possa fare, e lo voglia fare soprattutto, perché vista così, è veramente un'ottima, ottima squadra, Zaid, devo dire, mi piace davvero, davvero tanto, soprattutto il centrocampo, Jordi Alba, forse potresti anche sostituire, a favore di un Mendy Foot Burday, Tapsopau, Zagadu, ti dico, Zagadu, visto anche l'upgrade, Ronaldo Mbappé, Ronaldo, quanta differenza c'è tra Neymar e Neymarif, molto poca Edo, e te lo dice uno che ha piccato Neymarif, rosso, e che se non l'avesse piccato, non l'avrebbe mai comprato, Alessandro Billeda, sull'esterno, meglio Comando Douglas, guarda, tra i due preferisco Douglas, giusto per il 5 skill, però sono tutti e due, un po' carenti, Marco Baldo, Roussillon Lacroirio Moments Dest, e Noira, una buona difesa, in un attacco col 4-3-1, come giocheresti Cristiano, Neres, Barnes e Coutinho, allora, per quanto riguarda la difesa, Marco ci siamo, mentre per quanto riguarda l'attacco, io piazzerei Cristiano da punta, Neres e Barnes larghi, e Coutinho da C.O.C., Thomas ragione, per affiancare la Croix, Tots, meglio, Tapsoba, Teo, Mbabu, Mbabu, Lacroix, Maldini mid, tutta la vita direi qualità prezzo, Lacroix Marco, Francesco Sardano, Leva o Toti, vicino a Dalglish, tutta la vita sempre il buon Cristiano, Cristiano e altri dieci, raga, Francesco Giuntoli, in un 4-3-1-2, meglio, Tapsoba e Kondé, DC, Zambro e Sabitzer, e Lazaro, CC, oppure Kondé, Zambro, DC, Dest, come Didier, Renato e Bruno a centrocampo, io preferisco la seconda opzione, onestamente, Francie. Ciao Andrea, la tua squadra è Neuer, Bender, Tapsoba, Zambrotta, Roberto Carlos, Vidal e Renato, Neymar e Kuluseski, Mbappé e Ronaldo, e un milione e mezzo di budget, cosa vai a migliorare? Guarda, sono usciti Tozzi Serie A, quindi io toglierei Kuluseski per fare la SBC di Lozano, che praticamente, credo, tu ti porterai a casa con molto, molto poco, al posto di Bender, preferisco andare a utilizzare Davis Tozzi, mentre per quanto riguarda lì davanti, potresti anche pensare di fare un upgrade, magari a Ronaldo, a Mbappé, con una versione speciale. Notorious, in difesa meglio Show Tozzi e Bambi Saga o Davis e Lacroix? Io ti dico onestamente Davis e Lacroix, perché Davis è più forte di Show e Lacroix se la gioca con Bissaga. Mentre Giuseppe chiede con Deo Lacroix, tutta la vita Lacroix che ha un body type migliore, Arturo Ferrigno, giochi con il 4-4-2, Ederson, Digne, Gomez, Walker, Cancelo, Mbappé, Renato, Lusmelu, Neymar, Adal e Cristiano, hai trovato Kimi, Cessabitzer che non sai come linkare. Allora, io onestamente non li utilizzerei Artù, perché sono giocatori che non sono così più forti di quelli che hai e onestamente stanno per uscire i Tozzi le Gun con i quali magari puoi sostituire le Smelu, puoi andare ad upgradare magari un Digne e piuttosto puoi upgradare un Cristiano, quindi non smantellare. Emanuele Gragnano, Ribe, per te da difensore centrale, Davis Toz o Lacroix Toz? Poi che ne pensi della mediana Kimi, De Jong e Di Suarez? Allora, per quanto riguarda difensore centrale, tra Davis e Lacroix ti dico Lacroix in maniera tale che mi dirò ti devi sa fare il terzino. Per quanto riguarda invece la mediana, Kimi, De Jong ci sta, Suarez mi è piaciuto, comunque di questi giocatori ritrovi tutte quante le review sul canale. Ciao Adriano, come TS meglio Teo, Russi, Jon, mentre come DC meglio Zagadu o Smalling? Allora, come DC Zagadu, mentre come TS con Russi, Jon che è gratuito. Ciao Simone, chi vuoi devi upgradare tra Areola, Mendy, Cancelo, Ruben Dias, Riz James, Jones, Renato, Ronaldo, Mbappene, Marto e Trebase e Kuluseschi. Anche per te mettere magari se riesci a piazzarlo lo Zano, però deduco che comunque tu abbia dei problemi di intesa, quindi Kuluseschi puoi tranquillamente lasciarlo perché comunque un 4-4 il suo lo fa, mentre penserei un attimo alla difesa al centrocampo perché punterei a togliere Mendy per prendere il footbird e toglierei Jones per prendere un Bruno Fernandes o un De Bruyne Tots. Russi, Jon meglio diventi base a 7, ecco, avevi continuato quindi tutta la vita sì, meglio Jones a 8 e Renato a 8 prendi Bruno, ecco, prendi tutta la vita Bruno e vanno entrambi a 10, oltre che Bruno è proprio più forte. Riccardo Cao, come la vedi la difesa Roberto Carlos, Prime, Bender, Centrali, Mbappé, Bambisaka, come consiglio di punta a fianco a Neymar, Rashford, Mbappé, base, Renato e Kimmich come li vedi. Allora, per quanto riguarda la difesa devo dire Roberto Carlos io ho trovato il Prime Moments e mi è piaciuto tanto, il Prime sarà sicuramente forte e uguale, per quanto riguarda invece la punta ti consiglio da usare vicino a Neymar, Mbappé, Renato e Kimmich possono tranquillamente giocare insieme. rispondiamo a queste ultime domande, ok, e poi passiamo ai saluti. Luigi ci chiede, puoi giocare nel 3-5-2 con Guarda, stai messo bene, devo dire la verità, l'unica cosa che è un po' mi perprima è quei orenti in mezzo al campo perché in fase di impostazione rischia di esserti un po' macchinoso e di farti perdere dei palloni pericolosi. Giuseppe chiede, Barella o Nangolana? Dico Nangolana perché meglio la 4-skill rispetto al 4-viede debole, mentre Pietro chiede, meglio Nangolana o Barella? Ecco, manca a farla apposta, meglio Murielo o Lautaro? Se hai visto il video dovresti sapere Lautaro, quindi recuperate le review gameplay. Ciao maffo! Come potessi migliorare la rosa? In difesa hai Ariola, Teo, Fofanar, Ruben, James, centrocampo, Ndombele, Tolisso, Awar, Benzema, Beppe e Bejeder. Allora, poi sì, un po' che era dare Teo al Toz, però io toglierei soprattutto Tolisso, Awar e Ndombele con dei francesi o soprattutto Renatino magari al posto di Awar e poi aspetta un attimo Toz e Laligand perché secondo me esce qualche francese al centrocampo interessante. Per chiudere, Riccardo Cau, meglio Nengolano o Barella affiancato a Kimmich, Toz oppure metto Renato a 8. Allora, per quanto riguarda Nengolano e Barella in valore assoluto meglio Nengolano ma tra Nengolano e Renato è 4-5 quindi meglio il buon Renatino per quello che mi riguarda. Raga, siamo arrivati alla fine di questo episodio, vi ricordo di lasciare nei commenti tutte le domande appunto per settimana prossima, di lasciare anche un bel like in descrizione tutte le info le trovate per quelle che sono live giornaliere sulla piattaforma Viola. Un saluto e un abbraccio nel vostro Liberoschi vi auguro una buona giornata. Ciao.